Dopo i gossip dell'estate, Chiara Ferragni ha ritrovato l'amore tra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera. A confermalo il primo bacio in pubblico, per Chiara Ferragni, l'autunno è iniziato all'insegna dell'amore. Mentre il suo avvocato ha fornito i primi aggiornamenti sul divorzio e Fedez, è stato avvistato baciare una ragazza a New York, l'imprenditrice digitale ha ritrovato l'amore tra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera. Da alcuni giorni era circolato il gossip su un possibile flirt tra i due, confermato oggi da Il Giornale d'Italia con uno scatto che immortala i due nel loro primo bacio pubblico. Ferragni nuovo fidanzato. Scatta il bacio in pubblico. Proprio nella notte di Halloween, il gossip del momento è stato finalmente confermato. Il flirt tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è realtà. A confermarlo lo scatto che un bacio tra i due scattato durante la notte del 31 ottobre 2024 alla festa di Halloween al Maca Loft di Milano. Una conferma arrivata dopo giorni di rumors in merito alla possibile relazione dell'imprenditrice coinvolta nel corso dell'estate nella storia con Silvio Campara, poi naufragata con l'erede del colosso Pirelli. Giovanni è infatti figlio di Marco Tronchetti Provera, attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli ed ex presidente di Telecom Italia, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia ha fondato l'omonima azienda. Giovanni Tronchetti Provera vita privata. Dal matrimonio al flirt con Ferragni. Il manager e erede del colosso Pirelli, è al centro della cronaca rosa per il flirt insieme a Chiara Ferragni. Tuttavia alle spalle dell'imprenditore quarto nel 2024 nella classifica dei manager più pagati d'Italia, c'è la fine del matrimonio con l'imprenditrice di origini tedesche Nicole Mollhausen, da cui ha avuto tre figli, avvenuta nel 2023. Infatti i due hanno divorziato un anno fa, dopo sette anni di matrimonio. E oggi l'imprenditore sembra pronto ad aprire un nuovo capitolo d'amore.